Cristina? Sì, grazie. Allora, vado a vederla. Prego. E se deve essere, così sia. Andremo al museo, al museo, io e te. E guarderemo i segni di Michelangelo. Che prima ci aprirà, poi ci accarezzerà, il cervello. E non ci sono le viatane, grandi come lo stupore che ci copre. Come fosse un'oceano di catrame, come i nostri occhi che urlano. E con felice paura decideremo di nasconderci in quei corridoi vecchi d'amore. E ci ritroveremo, e ci ritroveremo nei colori. Ma ora, appoggiato un sogno, sento solo musica, musica. E dormo, sporco di ghiaccio e di sole, su un'isola di sale, del sogno un po' d'amore. Le scarpe, le scarpe che si rompono, devono, devono essere cambiate. E non c'è cielo che contenga l'esplosione di un amore. E non c'è Dio che ci spaventi in un appresso, cori a cori. Come i nostri corpi che danzano. E con felice paura decideremo di nasconderci nel quadro mobile. E ci ritroveremo nei colori. Salamandre sbatte dal tempo Salamandre bruciate dal vento Lucide come lacrime Lucide come lacrime Salamandre bruciate dal vento Salamandre Si amano Si amano A scatti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che c'è? Chezzo? Quello della bottiglia? Che è successo? Tu non c'entri niente. Che c'entri? Che tutto è troppo perfetto. Quindi? Tutto perfetto? Ultimamente mi dicono tutti che sono strana e sono proprio ragione. Ecco, di che succede? Quindi succede che io non vedo l'ora di andarmene da qua. Perché adesso? Scusa. Adesso che è tutto bellissimo. C'è il tramonto, sono le campane, i cellini che ci inguettano. Stai facendo sul serio? Ma che fai? Ce n'è rento là? Scappi, sei più bello, la ce la faccio. Ehi! Ma dammi almeno il tuo indirizzo, no? Dai, ti vengo a cercare io. No, non mi cercare. Dimmi dove abiti. Abito là, abito là. Ma là dove? Là. Eh, ma là ci abiteranno almeno mille persone. E non mi seguire, non mi seguire. Ma dimmi dove abiti. Là. Eh, ma là che cos'è? Non è un indirizzo là? Via! Parlate le stesse cose e pretendete che tutti in questa casa stiano a sentire quello che voi dite, che voi pensate. E comunque, sempre facendo messa lì fuori. Sei pesante. Ma perché no? Pesante no. Non c'ho mai avuto problemi con le persone, quindi non capisco perché ce ne vanno a essere proprio a casa dove... Una casa in cui abito. Oh, venite in terrazzo. C'è un ragazzo troppo tenero con i palloncini che volano. Cioè, ce li ha legati con un filo veramente bello. Dovete venire a vedere. Tania, vieni. C'è un ragazzo troppo tenero con i palloncini che volano.